La mostra di Gianfranco Gessi Pisoni, che si chiama Emigrazioni, la fotografia a volte mente non è sempre la verità, la fotografia, la parola invece è sempre verità. Se uniamo la parola all'immagine abbiamo una verità elevata all'ennesima potenza, come un progetto all'inizio temporaneo, casuale e poi incontra la parola, incontra la parola ai giornalisti, ai scrittori, ai poeti, ai politici e poi ci faremo spiegare come nasce a questo progetto. Al mio fianco c'è, oltre a Gessi Pisoni, Emiliano Deiana, presidente e anzi Sardegna, ma soprattutto sindaco di Bostigiada. Perché dico soprattutto sindaco di Bostigiada? Perché già dal tema delle fotografie, come voi vedete, si tratta di un paesaggio di interne di case di paese. E se c'è una persona in Sardegna che ha cominciato a parlare seriamente e a fare battaglie per lo spopolamento, questo è Emiliano Deiana. C'è anche con noi il curatore Marco Ceraglia, fotografo sassarese, che da poco, ed è assolutamente una coincidenza perché queste foto sono state fatte credo due anni fa, da poco ha ultimato un progetto di cui avete sentito tutti parlare, sempre sullo spopolamento, ed è la maxifoto, la foto da Guinness, di una piccola comunità che è quella di Banari, la foto di una comunità più grande del mondo. E quindi evidentemente questo tema non è una moda, ma è un'esigenza che cominciamo a sentire tutti, sia a chi vive in città, sia a chi vive nelle piccole comunità, perché la Sardegna soffre di spopolamento. Comunque questo era l'incidente. Allora, Gianfranco, com'è nato questo progetto, dove è stato fatto e perché? Grazie. Allora, spiego brevemente come è nato questo progetto. Io circa due anni e mezzo fa mi trovavo a Neoneli, un paese che è provincia di Oristano. Mentre giravo per il paese ho notato che c'erano delle case così abbandonate, con luscio aperto e la curiosità appunto di guardare oltre quel luscio è stata molto forte. Sono entrato e una volta che mi sono trovato dentro queste case ho trovato quello che vedete in queste fotografie. Cioè degli oggetti di uso quotidiano, insomma, come dei piatti, un tavolo, delle bottiglie, delle scarpe, vabbè, ci sono anche dei caffetti. Insomma, le cose così abbandonate, come se la gente fosse scappata all'improvviso. Chiaramente queste case sono distrutte, il tempo le sta logorando, ci sono i solai che stanno crollando, le scale lo stesso, per cui anche fare queste foto non è stato proprio facile perché le case, appunto, come sto dicendo, erano anche pericolose. Una volta scattate queste foto le ho conservate gelosamente nel mio archivio finché poi sentivo parlare di spopolamento, sentivo parlare di immigrazione, insomma, a questo tema, per cui ho, diciamo così, rispolverato queste foto e attribuirgli, diciamo, il titolo dello spopolamento, dell'immigrazione. Non è nato inizialmente già parlando di popolamento o di immigrazione, questa è una cosa che è arrivata dopo. E poi, niente, ho pensato a questa cosa, ho voluto svilupparla e ho voluto svilupparla e da lì è partita l'idea di attribuire anche, di farne un progetto anche letterario, insomma, attribuire una foto a uno scrittore, senza mettere la conoscenza del tema di questa mossa. Per cui ho voluto che loro fossero liberi di scrivere quello che la foto gli suscitava. Ed è venuta fuori una cosa, devo dire, sono rimasto veramente sbalordito, perché tutti quanti hanno accettato questo mio invito con molto entusiasmo e questo già mi ha fatto emozionare, voglio dire. Cioè, sono rimasto veramente soddisfatto di questo perché ricevere un no era anche lecito, ci mancherebbe, però, insomma, ci sarei anche rimasto un po' male. E invece tutti quanti molto entusiasti di questa cosa mi hanno... l'hanno, diciamo, accolta, hanno scritto, si sono dedicati ed è venuto fuori, insomma, un progetto veramente, veramente bello. Questo lo dicevano... No, i tessi, dai, parliamo dei tessi, veramente belli. I tessi sono veramente uno più bello dell'altro. E poi ho attribuito anche, ho fatto un'associazione non a caso, attribuendo appunto la foto a uno scrittore ben preciso, perché in ogni foto lo scrittore che ci ha scritto, secondo me, chiaramente, si rispecchia. Cioè, nella foto c'è lo scrittore. Adesso, qui in sala con noi, qua stasera, abbiamo per esempio una poeta, non pur se... una poeta, che è Savina, che io ringrazio veramente di cuore per essere venuta da Aurizzano, ha scritto una poesia... vabbè, giudicatela voi, però bellissima. E io ho attribuito a Savina quella foto lì, per come conosco io Savina... Savina è un cuoco. Le sue poesie sono forti, sono talmente forti che le ho paragonate a un cuoco. E quel caminetto, secondo me, rappresenta Savina. Un cuoco, insomma... Tutta... ha fatto questa associazione, non lo so, però... Grazie. Per dire, poi Maurizio De Giovanni, uno scrittore che non so se conoscete, ma comunque è famoso a livello nazionale, uno dei scrittori viventi, forse più conosciuti attualmente. A Maurizio De Giovanni ho mandato una foto, che c'è un cassetto e uno scarpone. A me quella foto mi ha ricordato il commissario Ricciardi, non so perché, ma se avete letto Maurizio De Giovanni, col commissario Ricciardi, quindi la Napoli degli anni 30, a me che mi ha ricordato lui. E poi, per citarne un'altra, la voglio dire, oltre a Francesco Abatte, per esempio, Francesco Abatte, ho assegnato una foto che è una pagina di un giornale, dove... che è laggiù, è una pagina di un giornale, e lui, essendo un cronista, un giornalista, le cronaca, lo ha attribuito con la foto. E poi un'altra, non so se voi conoscete anche gli altri autori, gli scrittori, che sono Gianfranco Franchi, Matteo Bibianchi, Giuseppe Crissaldi, e se non li conoscete, comunque vi invito, qua c'è una libreria, per cui vi invito a acquistare i libri e a leggerli, perché sono degli autori fantastici. Io li amo, li ho scelti non a caso, perché sono veramente degli scrittori che io stimo tantissimo. e poi ce n'è una che non è una scrittrice, ma è qui con me, è Lalla Karedu, e a Lalla ho assegnato una foto che è un contattore. E vi chiedete perché? Se glielo stavate chiedendo. Io lo so perché. Lalla non ha scritto un libro, non ha ancora pubblicato, però Lalla per me è un contattore, perché Lalla? Vi spiego il perché. Permette. Ma cosa ha contattore? Vi spiego. Lalla ha un'intelligenza che è al di fuori del comune, è velocissima, è più veloce della luce a ragionare, a rispondere, e poi se Lalla la faccia addirare, stacca la luce, come se è un contattore. E la luce, Lalla è luce, Lalla è luce, ecco, per me Lalla è luce, quindi gli ho attribuito il contattore. Va bene? Grazie. Sì, ma tu sei un cretino, comunque. Sempre e comunque. Un cretino. C'è veramente, ma... Ricordiamo anche Fernando Masullo, che ha accettato di... che ha mandato un testo. Fernando Masullo è quello, per intenderci, che ha inventato Ballarò. Un ingegnere, Carlo Crespellani, è uno di quelli che teorizzano la partecipazione democratica, è il sindaco di Mioneli. Perché questo, perché queste foto sono state fatte a Mioneli. Quando siamo andati a Mioneli, Emilia, ci siamo andati da cittadini arroganti. Io sono andata lì perché è invitata per fare un festival, con l'amica Luisa, eh? E Mioneli ci ha conquistato per essere proprio fuori da tutti i pregiudizi che avevamo. Soprattutto il dramma di Mioneli, io non so se abbottiggiato a sé così. A Mioneli non c'è il bar. Ce n'è uno in periferia. Una tragedia. Non c'era il banco, ma se c'è. Però Mioneli c'è entrato nel cuore, ci siamo tornati sempre. E questo è quello che abbiamo scoperto mentre Gespisoni rischiava la vita. Emilia. Allora, Emiliano, io sono molto contenta che tu sia sceso dalle montagne, dalla sua bottigiada. Queste case, così, abbandonate, possono essere il simbolo dello spopolamento? Oppure sono solo un pretexto per parlarne? Come dicono quelli bravi, buonasera a tutti. Non ho capito la domanda. No, no. Devo sciogliere un po' il ghiaccio. Tra l'altro sono abituato a fare una cosa da volta. O bevo o parlo. Di più non riesco. E ho visto, infatti, c'è della magia in questa roba. No, la questione del spopolamento. Io ero travolto, quando ho iniziato a fare il sindaco, da un tema di cui non riuscivo a dargli un nome. E continuo a pensare che poi anche la parola spopolamento non sia una parola corretta. Ovvero, il spopolamento è molte cose. È tante cose insieme. È emigrazione, come bene ha individuato Ghezzi. È assenza di lavoro, assenza di opportunità, mancanza di futuro, denatalità, l'invecchiamento della popolazione. È tante cose. È un miscuglio. Quindi anche fissare in un'unica parola un tema così fondamentale per la Sardegna è complicato. Il spopolamento rassomiglia ad altre parole. A spolpamento, che è il fenomeno invece che abbiamo vissuto in molti anni, dove dai paesi sono scomparti non solo le persone, ma anche le opportunità e anche il futuro. E tra le parole che abbiamo provato, ragionando, scherzando, siccome abbiamo poco da fare, a inventarne anche, c'era questa parola che abbiamo voluto utilizzare che si chiama paesitudine, che è una sorta di inquietudine che secondo me le fotografie raccontano in maniera perfetta. Noi non ci stiamo conoscendo adesso per la prima volta e non ho letto ancora le frattiche che le accompagnano, però il termine paesitudine raccoglie i paesi. Io avevo in odio quando si parlava di piccoli comuni. I piccoli comuni sono le istituzioni, non c'entra nulla. Il paese invece è la vita, è la forma aggregata, è il miscuglio di case appunto che stanno degradando, di persone, ce ne dimentichiamo sempre che ci sono le persone nei paesi. E fa piacere parlarne ad Alghero, come mi è capitato di parlarne a Cagliari, a Strasse, in altri contesti urbani, perché è importante che se ne parli fuori dalle muda dei paesi. Il paese è un elemento che porta anche il rischio. Il rischio più grande di chi vive nei paesi è quello dell'abitudine. Io faccio sempre questo esempio. Io dal mio ufficio vedo un panorama straordinario, però ho smesso di vederlo, perché sono talmente abituato a quello sguardo che c'è necessità di occhi nuovi e di sguardi nuovi. E i paesi devono avere l'abitudine ad aprirsi alla società, ad aprirsi all'arte, ad aprirsi alla cultura, ad aprirsi alla città. C'è stato anche un periodo che molti dei paesi mettevamo in contrasto il paese, la forma urbana del paese con la forma urbana della città. Ed è un errore clamoroso. Io penso che le forme urbane siano nella bassa densità e nell'alta densità. Dove c'è umanità si riesce a costruire relazioni, si riesce a costruire socialità. Quindi dal mio punto di vista l'esperienza che da più parti sta facendo attraverso l'arte, la fotografia più grande del mondo di Bana, di altre iniziative che ci sono state, stanno aprendo uno squarcio importante per discutere fuori anche dalle specche della politica, dalle specche dei partiti, dalle specche dell'accademia, la tematica dei paesi, che è la tematica della Sardegna. Se voi guardate la concentrazione di Cagliari, di Sassari, che sono le città, sono delle città di paesi. Tantissimi che vivono nelle città hanno il padre che arriva da Noragugume o arriva da qualunque altro punto della Sardegna e che per scelte di vista o anche per dinamiche politiche sono dovuti trasferire nelle città. Quindi da questo punto di vista è importante il lavoro che si fa attraverso la letteratura, attraverso la cultura, attraverso la fotografia, sono tanti esempi che sono stati portati avanti. E c'è un altro tema, prendo ad esempio il fatto che un mio collega sindaco abbia voluto dedicare le sue parole, Salvatore Cavoli, sindaco di Neoneli, a una fotografia, perché il lavoro del sindaco, la funzione del sindaco è una funzione che sta diventando fondamentale, lo è sempre stato per carità. E anche avere amministratori che guardano alla cultura, che guardano alla Sardegna, partendo dal paese, ma guardando a tutta la regione, è un fatto nuovo, è un fatto di cui bisogna tenere conto. Io avrei finito anche perché sono indilico e come diceva Andreotti, io ho un armadio nello scheletro. Mentre ti do il tempo di bere, mi dico, bevi, però si può fare contemporaneamente, come insegno io. però anche le città soffrono di spopolamento. Io penso a Sassari, penso al centro cittadino, dentro le mura, che adesso è totalmente spopolato, perché la gente va a vivere nelle periferie magari non servite, però con case più comode, riscaldate. noi abbiamo perso un po' l'anima, no? L'anima della nostra città si è persa e credo che succeda anche a Cagliari, credo che succeda anche a Nuoro questo problema. Ma torniamo alla fotografia. Così diamo il tempo. Invece, beh, non riesce a... No. Chiede veramente due pippe. Cioè, veramente, non... Dica. Cioè, dica. Cioè, una foto che è quella che tu hai consegnato a Francesco Abate. Voglio dire che gli scrittori, i giornalisti, quelli, non conoscevano il tema della mostra, eh? La sorpresa è stata... è stata proprio quella. Come avrebbero declinato, non sapevano da dove erano state fatte niente, non sapevano nulla. E quindi è interessante vedere come è stata... come è stata declinata. prima che io mi dimentichi, le foto sono tredici. Le foto sono tredici. Ce n'è una, quattordicesima, orfana, e qui da Sirenoce è un... potete ritirare una cartolina. La foto è questa. Dietro questa foto c'è un regolamento. abbiamo pensato di fare un piccolo concorso letterario. Questa foto potrebbe essere accompagnata da un vostro testo. c'è un regolamento, un testo di circa mille battute, qui lo leggete, e lo mandate a un certo indirizzo mail. Una giuria di scrittori selezionerà il testo. Cosa ci dice? Poco. La foto autografata dall'autore. È già questo. È grazie a che cosa. E in più nelle mostre successive perché questa mostra viaggerà, ci sarà la quattordicesima foto col vostro testo sotto. Quindi partecipate perché è una mostra che può essere un po' di tutti. La ehm Ce l'ho stato per chiedere. Ce l'ho stato per chiedere. mai presentare un amico. Mai. Perché questa foto è rimasta senza didascalia? Che bella domanda. No, allora, l'idea di questo concorso nasce perché ehm io ehm no Allora, io avevo mandato la foto a Francesco Abatte. Eh, Francesco Abatte mi ha detto ok, perfetto, wow, bellissimo, ti domani guarda la mail. Io lì domani guardo le mail e del testo racconto non ce l'ha scritto non ce l'ha niente di Francesco Abatte. Così è passata una settimana, due settimane insomma. E tutte le mattine io quando mi alzavo andavo aprivo la mail e Francesco Abatte e Francesco Abatte vero, non aveva ancora risposto. Insomma, dopo ci incontriamo, mi ha detto via guarda sono ad Alghero, viene ad Alghero così scrivo il testo per la fotografia. Vengo ad Alghero, ci troviamo, passiamo una bellissima serata assieme, il testo non l'ha scritto e mi dice vedrai domani ti sorprenderò. E quindi l'indomani io non vedevo l'ora di alzarmi per vedere le mail e questo racconto di Francesco Abatte mi alzo e racconto niente. Passo anche un'altra settimana e racconto niente. Alla fine mi cominciavo preoccupando perché insomma qui eravamo già in lavorazione, dovevo pubblicare, dovevo mandare in stampa e allora ho detto ma sai che c'è l'alla mi sa che questo apporto di Francesco Abatte organizziamo qualcosa, ci inventiamo qualcosa e lei mi dice perché non facciamo un concorso? Ah perfetto, facciamo un concorso. No, vabbè, insieme voglio dire abbiamo ragionato assieme e allora ho pensato di fare questo concorso quindi di mettere la foto che aveva destinata ad Abatte metterla al concorso e chi ha il racconto più bello poi verrà pubblicato su quella foto. Lì domani mattina non ci stavo proprio minimamente pensando e Francesco mi diceva sempre ti sorprenderò vedrai che ti sorprenderò. Vabbè, dovevo andare in stampa lì domani mattina mi alzo e invece cosa mi sono trovato? Apro la mia e c'era il racconto di Francesco Abatte. A quel punto ho detto vabbè, allora, siccome foto non sono solo queste ne ho anche delle altre quindi ho scelto un'altra foto e il concorso ormai l'avevamo più o meno già fatto nostro e per cui per cui come in tutte le scenografie c'è le caccelle a doppia quindi l'idea del concorso ormai l'avevamo già fatta nostra insomma per cui questo lo facciamo lo stesso abbiamo scelto un'altra foto ed ecco che c'è il concorso quindi ci fa piacere se volete scriverti ci scrivete un racconto certo voi siete avvantaggiati perché sapete il tema per cui insomma vedete voi cioè insomma quel racconto che riceverò io poi lo farò scegliere farò scegliere da una giuria di scrittori loro giudicheranno senza conoscere il nome di chi mi ha scritto totalmente veramente totalmente anonima perché vorrei che la cosa fosse più chiara più limpida possibile e quel racconto che la giuria sceglierà io lo pubblicherò poi in questa foto la foto è questa non la vedete stampata perché la foto è nella cartolina quindi la foto è questa qua ok grazie ma non è che non voleva parlare oh tutti così senti mi dai poi vorrei che intervenisse anche il curatore di questa mostra Marco Ceraglia perché alziamo il livello di figaggine già con Emiliano Dejano abbiamo sollevato con te facciamo il botto Emiliano ma tu hai detto è importante l'arte è importante la cultura perché questa inquietudine possa essere un po' placata però ci vogliono strade ci vogliono banco ma ci vuole la fibra questo è il discorso può solo l'arte oppure come può l'arte fare da detonatore perché questa cosa io me la chiedo non è che poi invece noi circoliamo un'idea che basti l'arte per poter risolvere i problemi mi distrago mi guardo questi che passano che non sanno neanche cosa li voglio accompagnare per un pezzo no la questione dell'arte è semplice secondo me dell'arte della cultura della letteratura di tutto l'ambaradan che possiamo mettere sotto il cappello della cultura è una parola che era stata espulsa anche dai vocabolari della politica che è bene invece che ricominciamo a reintrodurre su questo tema particolare serve a far detonare la fine di squarci per vedere quelle case questo è molto chiaro e avrete sicuramente ma non ho nessun dubbio che l'abbiate sperimentato come sia difficile entrare in una comunità perché se uno c'entra con l'idea di insegnare qualcosa viene espulso dopo tre secondi perché la dinamica del paese è una dinamica difficilissima è una dinamica chiuda come ho detto prima noi abbiamo però necessità vitale di avere di attivare le chimiche che ci sono nei paesi mettendoli in relazione a persone che guardano con misericordia la vita dei paesi misericordia non è che la parola della della domenica in chiesa la misericordia è far battere il cuore con il ritmo dell'altro sostanzialmente ed è una cosa che gli artisti hanno per capacità chi fa figurative chi fa musica chi fa poesia chi fa letteratura riesce a entrare in sintonia a vedere quello che gli abitanti non vedono più questo è un dono di cui i paesi hanno necessità se invece uno viene con l'idea di dover insegnare la vita c'è una figura che è terribile soprattutto nel periodo del civore quando torna l'emigrato e ti vuole insegnare da Milano come cavolo di visitare a Borsiglia dopo che manchi da vent'anni quello viene scacciato e deriso a tutta la comunità viene proprio dopo tre giorni lo invitano da bere per cortesia dopo smettono anche di invitarlo per dire che la relazione è complicatissima e io vedo negli artisti nei poeti nei musicisti invece le persone che riescono a far battere il loro cuore con il ritmo della comunità senza avere la pretesa di insegnare di insegnare nulla e provando invece a donarsi a ricevere quello che la comunità stessa può dare però c'è un'altra cosa che volevo dire rispetto al tuo intervento di prima se noi guardiamo con lucidità le città e con lucidità la Sardegna ci rendiamo conto di una somiglianza strettissima tra la forma che vive nei bordi che vive nei bordi nella Sardegna che vive sostanzialmente nelle aree costiere a una figura somigliante a quello che avviene nelle città la periferia è paradossale questa cosa a Sassari è diventato il centro storico così come a Cagliari è diventato il quartiere di Castello si vive ai bordi anche questa descrizione del vivere nei margini nel vivere nei bordi è una questione fondamentale io infatti quando parlo di alleanza tra paesi e città non parlo quasi mai in questi termini parlo di alleanza tra periferi tra chi vive nei bordi e nei bordi si può vivere nel paese i Neoneli ma si può vivere nel centro storico di Sassari o di Cagliari noi dobbiamo provare a attivare queste relazioni perché la dinamica della paesitudine delle cose che sono descritte è identica in un paese o in un centro storico c'è una somiglianza micidiale tra la forma inseriativa che ha assunto la Sardegna con la forma inseriativa delle città è una somiglianza che se guardiamo con freddezza è appunto micidiale ed è una cosa che dobbiamo far crescere come come l'isvello di dibattito politico fermandoci agli ultimi 5 anni quando si parlava di paesi io ho vissuto i contatti su livelli politici si guardavano e si dicevano questo è massimo cosa vuole questo non voglio neanche ricordarmi delle cose con aria professorale che sono state dette in questi 5 anni infatti uno dei miei sogni era quello di partecipare a un ho escluso il fatto di partecipare al Fibicio per questioni come dire però era parlare di questa cosa al mare che è una una cosa molto bella il fatto che se ne possa parlare al mare questo è un happy hour non so neanche cosa vuol dire però però lì ci fa bene spero di aver risposto se io non so se avete capito perché abbiamo fortemente voluto Emiliano Dejana fortemente voluto perché è dai sindaci dai sindaci come Emiliano Dejana che può partire un dibattito politico che abbia la cultura al centro questo è importante ecco perché l'abbiamo voluto ed hai soddisfatto tutte le aspettative tocco se Emiliano Dejana portatelo al Fibicio no io sono così naturalmente portate al Fibicio Emiliano Dejana allora Marco puoi venire un attimo qui che ti vuoi fare una domanda ti do pure la sedia no ma quando tu cittadino metropolitano ti sei trovato a dover fare questo progetto così ambizioso ma perché? ma quale progetto è quello? quello di Banari dobbiamo parlare di G ma è all'interno di questo progetto l'avete fatto insieme anche Banari è all'interno questo è il tema imparo anch'io velocemente buonasera a tutti Emiliano insegna buonasera a tutti era fondamentalmente una sfida fondamentalmente una sfida quello che sto imparando in questi ultimi anni dove si cresce si cresce molto velocemente anagraficamente professionalmente in tanti ambiti ho capito una cosa che mettersi mettersi insieme provare a provare a unire le forze a unire le energie è importante il problema del spopolamento è un problema avete scritto qui alcuni tratti alcune considerazioni fatte da queste tre persone mi è sembrato forte l'idea di prendere una comunità poi c'è tutta una tutta una storia sul perché Banari come è andata come è andata però l'idea era mettere insieme una comunità e provare a convincerli tutti a mettersi lì davanti in posa per una fotografia mi è sembrata davvero una sfida una sfida grande la cosa meravigliosa credetemi sono passato due settimane ancora io sto dormendo con molta fatica e con sogni e che l'hanno accettato c'erano 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 con queste persone mi hanno seguito e mi hanno aiutato ce ne sono diversi qui è incredibile poteva succedere tutto potevano presentarsi in cento in duecento che sono anche tanti in trecento sono tanti poteva scendere giù l'aria eravamo circondati da suoni fulmini avete visto c'era San Lorenzo che è il patrono del paese ha messo questo ombrello gigantesco quindi è stata una cosa incredibile e non hai manco bevuto da curatore questo fotografo cosa ne facciamo guarda guarda di Jeff a Jeff io devo tocco tre punti tre cose semplicissime velocissime io sono grato io sono semplicemente grato per tre per tre per tre piccolissime cose la prima Jeff tratta bene la fotografia lo ripeto Jeff tratta bene la fotografia oggi la fotografia conosce uno sviluppo e un'attenzione centosanta anni di storia sono un soffio ok nelle invenzioni la fotografia l'interesse che desta oggi non l'ha mai destato in questo arco temporale a mio avviso io vivo di fotografia e amo ancora la fotografia più di ogni altra cosa e sono estremamente grato è trattata malissimo è una mia lettura me ne assumo ogni responsabilità è trattata malissimo in questi ultimi anni Jeff con questo lavoro ma anche con un altro lavoro di due anni fa è una persona è un operatore culturale che tratta bene la fotografia resistere alla sirena che urla che chiama di prendere queste immagini che sono straordinarie sono di una poesia enorme e resistere a non cominciare a manipolarle a giungere un pochettino a togliere un pochettino a mette era veramente un'impresa ardua lui ci è riuscito lui ha detto no io le ho trovate così questa è più o meno l'atmosfera che c'era questa è la luce che ho trovato abbiamo ragionato se era il caso di andare magari una seconda volta una seconda sessione provare magari una luce un po' diversa no lui ha resistito ma soprattutto ha resistito alla post-produzione che è la cosa che mi fa stare più male questo è un primo motivo secondo motivo Jeff fa una cosa che io l'ho detto anche prima quando parlavo di Vanity in questi ultimi anni ho colto e che veramente ritengo importantissima Jeff mette insieme non spendiamo troppe parole sulla commissione tra le arti tra le arti tra le discipline non la inventiamo oggi se ne parla ma Jeff unendo la poesia e il racconto a queste immagini fa un'altra cosa io le ho lette tutte e vi invito davvero ma con calore col cuore vi invito se trovate un attimo di tempo sono ne oggi domani leggetele leggetele vedrete davvero vi arriva una cosa calda al cuore a me è arrivata davvero non credo che vi possano lasciare indifferenti io ci trovo il dono ci trovo il dono di qualcuno che l'ha raccontato lì prima lo ha ascoltato lo ha accolto e ha fatto quello che potete cogliere questo a mio avviso è una cosa grande lo ripeto è una cosa grande così come grande è stato vedermi due settimane fa a quelle persone la stessa cosa è un riconoscimento è un mettersi insieme l'ultima cosa l'ultima cosa Jeff tocca con questo lavoro una roba che a me non è che mi mi storce la pancia di più quando sento io detesto la politica non ci capisco niente sono lontano quanto di più lontano posso essere la politica perché non ce la posso fare perché non ce la posso fare ma Jeff dice una cosa politica importantissima a chi oggi vuole muoversi la pancia parlando degli immigrati del dramma quant'altro si stanno rubando si stanno invadendo guardatevi intorno e poi vedete abbiamo un'età ci sono i nostri nonni sono anche i nostri padri in queste fotografie quindi non ho altro da raggiungere grazie Jeff grazie noi dobbiamo chiudere è già tanto che non abbia pianto è un successo strepitoso salutiamo anche un altro scrittore che è venuto a trovarci autore di una delle foto finalista lo spremio strega Gianni Tetti grazie Gianni ci vogliamo bene sempre perché noi noi siamo fortunati perché viviamo veramente in una regione sì grande ma in comunità piccole e quindi possiamo godere dell'arte è vero sì no dell'arte della scrittura della fotografia in ambienti tutto sommato piccoli io volevo ringraziare davvero Emiliano Dejana perché è stato veramente bello incontrarlo io avevo proprio voglia di sentirlo parlare e e di sentirlo vicino perché sono assolutamente aderente al suo modo di vedere il ruolo dell'amministratore pubblico che non è solo quello di scrivere una delibera ma di vivere profondamente la propria comunità ringrazio Gianni Franco Pisoni bravissimo e vi ricordo che siamo dall'altra parte del mare questo evento apre il festival dall'altra parte del mare più tardi qua sotto un grande Hernan Loyola parlerà della poesia di García Lorca con interventi danciati e con la grande Franca Masu che fa delle letture Hernan Loyola mi amor Michelido eccolo qua ti ho appena presentato Hernan con Hernan siamo amici come stai Hernan? e e poi il festival prosegue nelle varie giornate noi ci vediamo nell'appuntamento più più vanesio del festival ci vedremo sabato dove presenteremo tutti gli ospiti del festival per una chiacchierata informale quella che faccio io tutti gli anni vi prego di guardare queste foto di leggere questi testi vuoi dire ancora qualcosa? sì no volevo ringraziare la libreria Cirano che si ospita mi sta ospitando ospita tutti gli scrittori insieme a me che hanno collaborato con me niente ringrazio i presenti Savina Dolore Massa Gianni Tetti e poi non so non so se c'è qualcun altro ma comunque anche se non ci sono ringrazio veramente tutti gli autori tutti quelli che mi hanno aiutato grazie grazie Emiliano Dejana ringrazio anche io sicuramente grazie per essere qua e ringrazio Lalla perché insomma grazie buona lettura